La nostra professoressa è una professoressa, siamo degli studenti del Banco di Canari. Io sono Martina, io Carolina, io Erika e C'è Nicola. Oggi siamo qui per spiegarvi che cos'è il percorso P-Education. La nostra professoressa è una professoressa, è una professoressa, è una professoressa. Alla prossima Allora abbiamo il profilo con il nome e il cognome di Ma effettivamente è possibile fare in modo che solo chi scegliamo noi possa vedere la nostra Si finge una ragazza e inizia a chattare in un bati con un alieno Grazie per la visione Grazie Grazie Grazie